ciao ragazzi bentornati in un nuovo video a tema cookie run kingdom oggi è uscita la nuova patch di cookie in cui sono usciti due biscotti affogato cookie e anche dark cacao cookie noi siamo qui adesso per cercare di provare entrambi anche se abbastanza abbastanza impossibile ma ci proviamo ad ogni modo abbiamo tantissime gemme tantissimi frammenti di biscotti e prenderemo anche qualche skin troveremo tutti non ne dubito fortemente però noi ci proviamo incrociamo le dita rimanete con noi prima multi nel banner del skin andiamo ok sembrerebbe esserci un epico yes c'è un epico prima multi c'è un epico prima multi biscottina e c'è già un epico ottimo ciao temi precisa è arrivata temi a portarmi fortuna allora vediamo prima normale o comune insomma ok ma quelle comuni le ho quasi tutte quindi non mi aspetto infatti le avevo entrambi e fin qua nome sirius ciao benvenuto in live quindi qua non mi aspettavo niente di diverso da da quello che abbiamo visto poi andiamo avanti quella rara avevamo già princess e va bene allora spam di biscottini per i due epici se proprio vogliono farmi un regalo gigante uno dei due deve essere cocua poi per il resto va bene tutto per il resto va bene tutto primo dei due buono nuovo mi mancava almond in versione commission of parfadia e va bene bene un epico che mi mancava quindi come vi ho detto per me la soddisfazione è trovare le skin che mi mancano quindi questa molto carina gliela mettiamo e poi cos'è fig cookie ce l'ho già questa sì è ok è quella di fig cookie in versione Halloween e va bene va bene va bene ok ci siamo due epici non mi erano mai capitati quindi sono già contenta così ok seconda multi delle skin ok qui dovrebbe esserci forse un raro ma potrebbero essere anche tutti comuni no c'è un altro epico c'è un altro epico invece pensavo di essere stata scammata dall'animazione iniziale mea culpa c'è un altro epico l'animazione iniziale era proprio quella dei comuni infatti sono tutti comuni tranne un epico va bene va bene allora comune numero uno ce l'abbiamo due oh ecco questo mi mancava ve l'ho fatto vedere prima buono tre ok ok due due cherry kli è sempre con noi bene comunque un comune che mi mancava e l'epico è ok sorbet sì sorbet shark che l'avevo già buono però anche qua un biscotto nuovo un biscotto per multi nuovo sono contenta ok adesso tiriamo la terza multi delle skin e poi queste abbiamo finite quindi terza multi sulle skin qui dovrebbe esserci massimo rari teoricamente rari rari qui sono rari allora schippo l'animazione tutti rari pensavo ce ne fosse uno tutti rari tutti rari va bene vediamo oh pastre nuova buono questa l'abbiamo questa l'abbiamo questa l'abbiamo e questo l'abbiamo ok pastre nuova uno uno nuovo per multi allora iniziamo con queste nove singole singola numero uno vediamo se c'è la reazione della strega triste vado avanti ok frammento epico ok di lilac va bene frammento numero due diamo un pochino raro raro non mi serve niente per chi fosse nuovo sul mio account ho tutti rari maxati a 5 e anche tutti i comuni quindi si punta solo agli epici poi qua numero 3 e no in questo gioco niente piti purtroppo il piti però sarebbe veramente troppo ci danno talmente tante ricompense che alla fine li giustifico cioè non gli richiederei anche il piti con tutto quello che che mi hanno lanciato dietro anche a questo giro ok frammenti che tanto a me ragazzi se trovo i doppioni mi fa solo che piacere perché prendo poi i frammenti viola circolari che servono per prendere appunto le copie dei biscotti che uso di più quindi anche questi 15 si mettono in saccoccia insieme a tutti gli altri e alla fine per me è soltanto che vantaggioso da questo punto di vista perché porto poi magari a 5 stelle stasera in uno di quelli che uso di più che ancora non ho portato quindi buono quindi andiamo ok frammentini frammentini altri 15 no niente piti ragazzi non c'è non c'è esatto le gemme te le tirano appresso ragazzi sono d'accordo in questo gioco te le gemme te le tirano appresso quindi oggettivamente parlando poi uno non si allora Genshin ti fanno ti diamo il piti allora non hai la possibilità di avere tantissime gemme qua invece ti diamo le gemme non c'è il piti alla fine è bilanciato però io sono dell'idea meglio cookie più gemme senza piti però si pulla la manetta tutto quello che si vuole prima molti con le formine normali epico c'è almeno un epico in questa molti let's go buono let's go due epici due epici due epici non si dice niente quando ci diamo due epici si ringrazia e basta a testa basta per giunta si dice grazie allora va bene ok 120 punti viola io ormai non li chiamo più con i nomi ma li chiamo con i punti ok epico numero uno lilac lilac cookie lilac cookie buono che devo portare comunque su insieme a tutti gli altri quindi va benissimo ok ah va bene oggi è il lilac day oggi è il lilac day scriptato proprio ok 120 frammenti viola buono due di milk cookie ok secondo epico coco ve lo ricordate ragazzi il balletto che abbiamo fatto per coco coco allora seconda multi vediamo la reazione della strega raro qui c'è rari quindi andiamo veloci ok tanti frammenti ottimo ok ok molti di rari giustamente proprio shaftissima non c'è nemmeno un frammento epico poi terza multi multi di rari anche questa vi faccio dell'animazione ma è raro ok allora dammi qualche frammento epico magari l'importante è che ci dia qualche frammentino epico nel mezzo almeno uno giusto per dire almeno quello te l'ho data quello ti servono rari epici e si rari epici rari e comuni non ti servono più anche clover l'abbiamo maxato è stato il mio primo maxato tra l'altro clover dei rari ginger brave ok frammenti 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 proprio ecco frammento epico due frammenti epici di tea night cookie che è quello comunque recente quindi buono qualtamutti delle formine normali di nuovo raro bene ma in questo banner sono contenta in realtà del raro perché voglio gli epici in quello dopo quindi ci sto tre frammenti di cocoa va benissimo due frammenti di vampire ok è già una bella multi per me con tutti quei frammentini di epici ok onion lo salutiamo frammenti di epici ancora no due frammenti di affogato di già nel banner giusto no nel banner sbagliato ho trovato i frammenti di affogato anche rima affogato banner sbagliato ok va bene basta dopo questa sto zitta sto zitta lol esatto proprio proprio lol andiamo bene buono buono un sacco di frammenti epici prime due singole nel banner di affogato singola numero uno ottimo l'inizio che volevamo bene e singola numero due ok va bene allora prima multi sul banner di affogato epico prima multi sul banner di affogato epico c'è un epico iniziamo dai 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 ok un frammento di strawberry crap alchemist strawberry wizard ginger brave tre frammenti di chili pepper blackberry blackberry eccoci no chili pepper niente chili pepper ci ha scammato ora poi vi dico cosa ho pensato appena è finita la multi ho pensato quando ho visto i frammenti di chili pepper chili pepper io non la trovo mai sto zitta la prossima volta nella mia testa multi numero 2 epico ok multi numero 2 di nuovo epico speriamo sia quello giusto a questo giro un epico speriamo sia quello giusto dai dammelo un primo affogato cookie ti prego ah subito dai dai yes è lui è il primo l'abbiamo portato a casa è bellissimo dimmi se non è bellissimo cioè meraviglioso meraviglioso ok continuiamo bene il primo l'abbiamo portato a casa ragazzi la monocopia è nostra ora c'è da sperare di trovare qualt'altra copia e se per caso dovesse uscire dark choco facciamo una festa di quelle epiche 3 copie di affogato perfetto iniziamo bene un raro altri 2 frammenti di affogato bellissima multi terza multi nel banner di affogato ginger brave da solo può essere tutto e niente è raro quello direi raro va bene ci sta però eccomi dai qualche copia 2 frammenti buono va bene così ok un altro frammento questo è il raro un altro frammento bene quarta multi nel banner di affogato dai un'altra copia un'altra copia vogliamo un altro epico no raro faccio dell'animazione per conferma ma è raro bene allora però vogliamo dei frammenti ci meritiamo dei frammenti ecco carrot che la stavamo chiamando adesso in chat ginger brave gumball altro raro un'altra carrot chiamata proprio angel cookie alchemist angel cookie un altro raro un'altra carrot no alchemist un'altra carrot mi sentivo male adventurer wizard ok andiamo avanti prossima multi sempre raro però mi merito i frammenti adesso allora frammenti di purple gem ok di rai va bene oh tre di affogato volevo ben dire non stiamo ad uscire questi frammenti e gli ho detto usciranno anche quelli che servono a me ok andiamo carrot di nuovo beat princess ok va bene tre frammenti di affogato ci siamo quasi a me adesso a me la e pr expectap a ma Grazie a tutti.